lui è quello che mi ha cambiato la vita lui me l'ha proprio cambiata e mio padre me l'ha cambiata e il Carlin Petrini me l'ha cambiata quei tre lì sono tre fenomeni come stai? molto bene, dopo questa tisana la tisana con i chiudini poi è un posto accogliente con le piante vere le persone vere età media 14 anni e mezzo 14 anni e mezzo, che è perfetto faccio io un po' la media ma fa niente ma senti ma hai detto recentemente in un'intervista o comunque in un'intervista hai detto che ti piacciono ovviamente stare in mezzo ai giovani è un grande classico però hai detto che forse in questa generazione di quelli che adesso hanno circa 20-23 anni c'è una novità che sono quelli più forse disincantati perché sono nati già sapendo che sarebbe stato difficile, questo forse è un vantaggio sì io li li briefo io cerco, vado molto nell'università, vado molto volentieri per imparare non è che vado la scusa è quella di tenervi in elezione in realtà faccio solo domande infatti questi sono stupiti normalmente introduco così non chiedete consigli a quelli della mia generazione che vi stanno consegnando l'Italia con 3.000 miliardi di debiti e vogliono anche darvi consigli al massimo mandateci a cagare e fate quello che vi sembra più opportuno che è sicuramente meglio di quello che vi possiamo indicare noi e poi faccio domande e la domanda topica quella finale quella più importante alzi la mano chi di voi pensa tra 10-20 anni di fare un figlio questa è la domanda perché questo indica il grado di armonia tra l'essere umano e la propria generazione e il proprio momento storico fare figli come sai che dovrebbe essere uno dei compiti principali di noi umani per per proseguire la specie e l'85% alza la mano dei ragazzi oggi tra gli 8 tra i 18 e i 23 24 anni quelli dell'università siccome 20 anni che vado ti garantisco che 20 anni fa cioè i quarantenni di oggi alzava la mano il 30% 10 anni fa i tretti anni di oggi 50 oggi l'85 e il motivo secondo me alla fine mi sono dato questa risposta è il motivo che è la prima generazione nata ufficialmente nella merda e quindi quindi sono molto fiducioso molto contento molto ottimista però non dovrebbe essere il contrario cioè sono è come se fossero quasi arresi che tanto comunque non si migliora quindi sì ma i figli li voglio fare li faccio lo stesso però non sono anche più cinici quella generazione lì è molto meno siamo noi cinici la generazione l'ottimismo non dovrebbe arrivare dalla fiducia nel futuro nel fatto che qualcosa succederà quando sai che tanto non succederà nulla ti disincanti sanno ottimismo vuol dire pensare che problemi si possono risolvere attraverso tu e gesta questo è l'ottimismo proattivo non è l'ottimismo di pensare tanto si risolve tutto è stupidità il pensare che non ci sono problemi non è ottimismo non fare l'analisi il vero ottimismo definizione di ottimismo pensare che problemi si possono risolvere e io ne sarò protagonista quindi nei periodi in cui regnava o regna perché questo è uno di questi il cinismo definizione di cinismo è commentare la vita vivere la vita senza usare i sentimenti facile l'eliminazione dei sentimenti sono cinico il contrario essere sentimentale idealista vedi prima ne parlavamo tu sei un filosofo Hegel e Schopenhauer quella meraviglia di Hegel è quello stronzo di Schopenhauer che era il re dei cinici allora le aule di Schopenhauer erano vuote 1820 Berlino le aule di Hegel erano piene oggi sono più piene le aule di Schopenhauer e uno dei libri più venduti su Amazon è 38 regole per avere sempre ragione il massimo del cinismo di Schopenhauer anche perché è molto breve che l'altro è molto breve ma è tipico proprio della mia generazione insomma di chi è nelle posizioni chiave anche ma tu guarda anche i media i titoli le reazioni sono ciniche e quindi analizzando la storia cosa ho sempre notato che noi cambiamo riprendiamo i sentimenti quando tocchiamo il fondo pum io arrivo dalle langhe arrivo dalle colline di Serralunga dove devi assolutamente venire lì c'è la mia fondazione sai perché facciamo il vino così buono là perché nell'86 cioè ieri ne abbiamo ammazzati 19 e cercati 15 col metanolo tu non c'eri ma te l'avrai sentito usavamo il metanolo prima costava poco per fare vino acqua, metanolo e un po' di spray e abbiamo dovuto ucciderli uccidere per capire che era una cagata pum da lì è ripartita tutto un nuovo rapporto con l'agricoltura con la vigna con tutto e quindi secondo me è così quindi chi è vicino al fondo e noi siamo abbastanza vicini in un mondo che ha 12.000 bombe nucleare come cacchio si fa a fare 12.000 bombe nucleare? c'è un ragazzino che nasce oggi in un mondo dice ma come avete fatto 12.000? c'era bisogno si potremmo fermare prima 12.000 fatene una per una 12.000 e l'emergenza ambientale lo sconcerto digitale altra roba tipica dei cambi dei momenti storici abbiamo inventato una roba pazzesca pazzesca destinata a cambiare completamente il nostro modo di vivere e questa cosa ci sconcerta ci sconcerta per due o tre ragioni primo abbiamo capito che ci prendono i dati abbiamo capito che li vendono e non abbiamo ben capito come e perché come difende è una roba strana abbiamo capito ci sono 5 company che detengono tutto il business mondiale di questa roba altro che oligarchia e purtroppo nei social i social per ora sono abbastanza dei bar frequentati dagli stronzi per dirlo direttamente ne parlavamo prima mentre venivamo in qua e dicevi proprio perché sono sentimentale non cinico ci rimango ancora male quando qualcuno parla male di me quando sento qualcuno che mi ha detto che c'è un commento che dice qualcosa di negativo il che ovviamente potrebbe sembrare ma dopo tutto quello che hai fatto cosa te ne frega ma vedi molti pensano che io sia gotico e io li comprendo perfettamente che lo capiscono perché sono molto presente vengo ma non lo faccio per presenziare non mi frega niente anche diciamo la mia fama non è stata assolutamente cercata è venuta stasera sono con Bassetti io lo dico sempre come un amico che lui è gotico lui va in crisi adesso c'è meno virus e quindi c'è meno richiesta televisiva e lui gliene matto io non vado in televisione vado solo perché vendo i libri ho bisogno di vendere i libri se tu vai una volta in televisione a fare una bella cosa vendi 5.000 libri hai voglia di fare le presentazioni non ho questa cosa della fama però c'è e non vengo prima non vengo qui per la fama non fai un cacchio di quanti ascolteranno il tuo podcast mi interessava capire che teste siete vi ho guardato un po' mi avete chiamato capire e mi interessa molto capire come la vostra generazione affronta il tema della comunicazione e cioè da che sentimenti parte quale piaceria e come arriva il bla 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 che è la parte centrale della vita quindi ci sto male e mia moglie mi dice sempre tu sei come Berlusconi vuoi piacere a tutti non si può piacere a tutti e allora io ci rifletto e ho questa debolezza io vorrei piacere a tutti ma non per razonismo per armonia mi piace sempre cambiando anche idea e quindi quando tu sei lì un po' visibile è tanto poi cosa fai soprattutto quando ne è zecchi stamattina parlavo con Bastianici il grande tema dell'invidia che è più latina che Anglosassone sai che là quasi non c'è anzi là c'è la parte opposta che ha anche i suoi punti di debolezza voglio stare vicino che è figo l'invidia poi se quello che tu invidi sbaglia qualcosa godi come un madrillo e giù certo no? è così no però mi chiedevo comunque anche nel libro le dieci mosse per affrontare il futuro ma in tantissime cose che hai scritto e che dici nelle conferenze il fallimento è una di quelle cose che invece sarebbe sensato prendere dalla cultura anglosassone cioè il fallimento in sé non ha un valore di onore non ha un valore definitivo e passando attraverso tantissime fasi di fallimento uno dovrebbe dire pensa ho fatto una corazza tale per cui non è che se qualcuno mi dice qualcosa allora mi interessava questa cosa qua non diventi più cinico fallendo di più e dici vabbè tanto in qualche modo lo faccio lo faccio perché lo voglio fare ma non sto qua a sentire cosa dicono gli altri di me può darsi che a qualcuno succeda a me no a te no no anzi assolutamente no io vivo la cultura dell'errore come molto importante l'ho sempre vissuto infatti nel libro ho preso con me a scrivere un certo Leonardo Davinci proprio perché lui ha detto godo in sovrappio provarci che a farcela che io trovo che è fantastico e che è il simbolo del rinascimento tu puoi rinascere solo se ci provi godo in sovrappio provarci che a farcela tu devi sapere che sono andato a presentare un giorno un libro a Vibo Valencia la sindaca di Vibo Valencia per capirci che era una poi mi ha spiegato che è molto di destra molto ma molto tanto è un periodo che anche che è tanto di destra poi va nelle posizioni chiave oggi e mi ha subito ha commesso l'errore di partire attaccato e mi ha detto eh no ha detto la cosa più banale del mondo cioè no io godo a farcela no a provarci che è tipico il 90% di persone può dire così e poi capire di una cosa per me l'ho distrutta perché è troppo facile no proprio non capisco che intanto se non ci provi non ce la fai ma a me cosa mi interessa molto è il rapporto con i nostri figli nel mio caso addirittura i nipoti per combattere questa cultura della seconda del novecento del farcela la cultura del farcela tu a scuola ce la devi fare ce la devi fare poi cominci a lavorare ce la devi fare che alla fine non ci provano più e l'Italia è sempre stato il paese del provarci tu sai che abbiamo 5 milioni di partite IVA no cioè abbiamo il più grande numero di imprenditori pro capite della terra il motivo è fisico è sempre fisica non chimica è la biodiversità che c'è nella terra si è trasferita ai nostri cuori ai nostri cervelli e ci porta ad intraprendere quindi abbiamo tantissime piccole imprese ma se ci viene mancare questa Roma cioè se i giovani non fanno più impresa tu sei uno che qua hai deciso di fare impresa questo è importantissimo è importantissimo quindi io sprono le persone a provarci io ci ho sempre provato chi ci prova molto sbaglia numericamente a livello numerico di più che non che non farcela no Leonardo sbagliava 6 opere su 10 ma se non sbaglia sai che con gli incompiuti di Leonardo ci puoi aprire 3 musei ma datevi vedere stasera visto che è questa meraviglia che è Wikipedia adorazione di magica che figata tu schiacci lì 3 bottoni no 2 tasti vedi l'adorazione di magica io avevo un'enciclopedia che si chiamava conoscere devo andare a prenderla poi quando eravamo un po' più soldi mia nonna mi ha comprato capire poi la utet e dovevi andare là allora Leonardo da Vinci intanto non sapesse cercare sotto la L sotto la D o sotto la V sotto la V quindi ci mettevi un po' poi da e guardatevi l'adorazione di magica guardi l'adorazione di magica che è un'opera incompiuta straordinaria ma quando ti dicono che la storia la scrivono i vincitori beh la verità no perché io è Leonardo da Vinci che dice io godo di più a provarci che a farcela che discute con te che comunque insomma qualcosa qualcosa è la verità ma se la storia poi dipende da chi la rilegge cioè voglio dire nel campo dell'arte Caravaggio scompare e se non lo ritrova Longhi due secoli dopo noi non sapremo che Caravaggio è stato un grande Giulio Cesare visto che sul treno l'ho dedicato a Giulio Cesare Giulio Cesare scompare e se non lo riscopre Napoleone per motivi facilmente complessibili si sentiva un Cesare e noi non sapremmo cioè De Bello Civili De Bello Gallico era andato la storia la riscrive chi studia la storia e chi la interpreta Churchill l'ha riscritto Napoleone ha preso perfino il premio Nobel e ci ha scritto delle robe interessanti quindi secondo te c'è qualcuno che non ce l'ha fatta e che può essere contento di averci provato e basta? poi se lui è contento o meno non lo so però è una persona che ha del merito cioè noi ci ricordiamo che non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta e poi ce la fa ce n'è tantissimi esempi poi ci ricordiamo anche di chi ce la fa e poi gli va male non ho quasi conosciuto nessuno che ce l'ha fatta ha fatto delle cose grandiose e poi non ha commesso degli errori enormi ma vedi Steve Jobs piuttosto Leonardo in vita era trattato era male perché ci occupava di troppe cose secondo loro perdeva un sacco di tempo eccetera però l'importante è provarci poi ho capito dove vuoi arrivare a te tu dici se stai bene con te stesso sbatti tra le palle lo so però vivo in armonia con gli altri e io morirò così col desiderio di voler piacere a tutti e col grande dispiacere di quando non piace ma infatti ma infatti delle due non posso farci niente no ma infatti delle due guarda che la cosa interessante di averti di persona è quella cioè capire alla fine la mia curiosità è quella cioè tu sembri effettivamente così cioè non sembra perché uno da fuori dice vabbè è un po' anche può essere una posa non può essere questo ottimismo continuo che lo racconto perché ho fatto delle cose mi diverto ad andare in giro però magari tu sei semplicemente così davvero lo so però viviamo in un mondo allora hai notato dove veniamo continuamente giudicati se Kant diceva pensare equivale a giudicare ed è vero tu pensi tu vedi una persona la prima cosa è come un pacco regalo non l'hai ancora aperto ma guardi che scarpe ha come metti i piedi come vestito e ti fai un'idea che in realtà non è un giudizio è un pregiudizio poi apri la scatola regalo come quando lo senti parlare si deve fare delle cose dovremo giudicare di meno aiutare di più si giudica si giudica guarda anche queste trasmissioni di inchiesta tipo l'altro giorno mi è venuto a intervistarmi uno di report impreparatissimo dilettantissimo siccome io li ho criticati ho fatto male per due trasmissioni sul vino che hanno fatto terribili terribili una contro le autoelettriche siccome l'altro presa diretta aveva fatto una trasmissione a favore delle autoelettriche loro hanno fatto una contro ma ho capito l'unica cosa che gli frega allora è l'audite sì perché lì ci fa è certo se tu in questo podcast mi facessi dire che la melone non lo so era una roba molto grave e poi si spargia la voce tutti l'ascolterebbero allora tu vuoi arrivare quello gli ho detto suicidatevi di retta penso che auditor che avete ma a proposito di queste cose qua ultimamente invece sulla tradizione della cucina italiana si sta dicendo tantissimo cioè demitizzare la tradizione della cucina italiana quello non è italiano quello non è italiano quello non è italiano e questa cosa qua immagino che vada un po' contro la narrazione anche dell'Italia come noi siamo più bravi a fare queste cose perché addirittura come dicevi tu prima fanno parte della nostra fisica della nostra biodiversità che abbiamo assorbito quando sono storici che dicono sì noi siamo stati bravissimi a prendere tutto quello che arrivava tutto quello che c'era farò diventare più buono ma non c'è bisogno di dire che è nostro nella narrazione comune della cucina italiana c'è tanto sciovinismo e tanta ignoranza lo sciovinismo è una caratteristica che noi ci portiamo dietro da tanti anni siamo molto più sciovinisti i francesi diciamo che lo siano loro e l'ignoranza per il fatto che non la studiamo intanto crediamo di avere una cucina la nostra cucina è è giovanissima è una cucina che è nata l'altro ieri ma l'altro ieri veramente il dopoguerra tu sai che noi adesso abbiamo aperto qua Gran Tour Italia abbiamo fatto un grande studio su Goethe e su questo abbiamo cercato di replicare questa moda che c'era nel 700-800 il viaggio in Italia ma vi venivano i rampolli delle ricche famiglie contentissime nell'Italia perché era già considerata la nazione più bella del mondo da che aveva studiato è logico anche adesso lo siamo ufficialmente 60 patrimoni dell'UNESCO primi al mondo tu vedrai io ho aperto Gran Tour Italia con i patrimoni dell'UNESCO per far capire noi ne abbiamo 60 e il secondo paese al mondo è la Cina quindi ufficialmente è la seconda ma la Cina è il 6% del terremesso noi siamo 0,2 cioè è incredibile abbiamo il 70% dell'arte antica vero di tutto il pianeta non dell'arte dell'arte antica perché c'è stata qualche generazione di italiani prima di noi un po' più figa di noi abbiamo avuto i periodi belli non siamo sempre stati così ebbene è una cucina loro erano venivano contenti di vedere l'Italia così bella erano terrorizzati dal cibo perché tutti sapevano che era il luogo d'Europa dove si mangiava peggio disastro in questo passaggio perché mentre i francesi partono con la cucina tecnica 200 anni prima di noi quindi rivoluzione francese i cuochi dei nobili perdono il posto aprono i ristoranti noi eravamo poverissimi vivevamo di cucina domestica i primi che aprono le osterie eccetera facevano delle porcherie pazzesche finché siamo stati capaci di trasferire la nostra cucina che nasce domestica nelle osterie nei ristoranti ma è venuto tardi e poi la nostra cucina è completamente nuova nel senso che il pomodoro tra una pella e un'altra arriva a 700 e cambia completamente la cucina le grandi cucine millenarie sono quelle cinesi giapponesi indiana alcune cucine dell'est la nostra adesso è molto di moda perché è fresca basata sul mercato abbiamo la fortuna di avere un mercato molto ricco per via di questa biodiversità agroalimentare l'intervento dell'uomo abbinato al clima di quest'unica penisola che viaggia stretta dritta lunga chiusa dentro un mare buono ma non non la conosciamo e la decantiamo poi vedi della gente che si lamenta parla male d'Italia e poi nel cibo i nostri popolari sono i migliori le nostre zucchine sono le migliori tutto è migliore al mondo non è vero per adesso i francesi sono ancora più bravi di noi a fare vino per adesso i francesi sono più avanti di noi nei formaggi le fragole migliori del mondo sono quelle dell'olio osciare i porri sono quelli cinesi poi abbiamo alcune cose dove siamo i migliori del mondo mediamente lo siamo ma li senti e dicono delle palle pazzesco meno del 30% di italiani conosce la differenza fra grano teno e grano duro e tutta la nostra cucina è basata sul carboidrato se io chiedo qui per l'alzata di mano chissà bene la differenza fra grano teno e grano duro non facciamolo perché avremmo l'età è però è fondamentale studiare questa roba qua e allora cos'è che comprano all'estero però perché la gente è ancora tuttora anche sui social più nuovi la gente vuole l'Italia perché mangiano perché mangiamo poi non sanno bene cosa perché però c'è un motivo molto vero per due ordini di ragioni una fisica una chimica dunque noi abbiamo la cucina più light più fresca più digeribile del mondo le nostre basi come tu sai è pasta e pizza il carboidrato è molto digeribile ti alzi mentre la cucina francese sono più pesanti è una cucina fresca è una cucina replicabile perché ha avuto successo Italy per dire ci hanno provato i francesi a New York a fare Lady Street sono andati malissimo perché tu vai da Italy a New York mangi un piatto di pasta pomodoro prima di andare a casa ti compri mezzo chilo di pasta un parattolo di pelati la rifai uguale tu vai in un ristorante francese mangi un grande foie gras vai a casa batti la testa contro il muro perché è tecnica la nostra di mercato quindi è replicabile l'hai deseribile e poi perché noi siamo un popolo che è migrato recentemente forse il popolo che è migrato di più nei paesi giusti e quindi abbiamo ormai una popolazione di italiani alle fuori dell'Italia più numerosa degli italiani che hanno portato la cultura del cibo italiano là perché New York è così facile marea di italiani sono andati là hanno insegnato a cucinare eccetera vai a vendere l'Italia in Giappone o in Cina è molto più complicato a proposito di questo è una cosa che torna sempre quando parli quando lasci l'intervista nel 2010 quando hai aperto New York mi sembra di aver capito che è proprio stato un momento cioè un grande grande emozione un momento che ti ricordi come un punto d'arrivo un punto di svolta eccetera e lo ricordi ancora in questo modo è ancora un po' il punto che è un grande orgoglio la mia gioconda ne ho due di gioconde tra le mille cose che ho fatto di cui ripeto il 60% sbagliato e il 40% giuste a livello numerico ma a livello valoriale quel 40% che ho azzeccato vale è andata benino ma non l'avrei fatto senza quel 60% di errori chi ce la fa è perché sbaglia patrimonializza gli errori le mie due gioconde sono l'apertura di Italia e New York e l'apertura di 1 euro a Roma nel 99 quando bloccai la tangenziale di Roma per due giorni non partì un aereo da filmicino fu una roba pazzesca e New York uguale 7 mesi di line per 6 isolati fu una roba ciclopica inimmaginabile cioè ci aspettavano ci volevano ho avuto anche una serie di colpi di culo tipo Bloomberg che viene a inaugurarlo e quel giorno lì decide di fare la conferenza stampa quella che lui faceva mensile da me e c'era il problema enorme della moschea a downtown sai che lì ci fu una roba dove hanno costruito questa moschea a downtown e quindi tutti i repubblicani conservatori erano contrari i democratici erano a favore Obama chiaramente era a favore si aspettavano il pronunciamento di Bloomberg il quale letto dai repubblicani conservatori avrebbe dovuto dire sono contrario lui venne da me a dire che era a favore e fece un discorso bellissimo sull'America dai mille colori sull'America che è diventata leader a livello mondiale perché ha colto sui grandi valori dell'America che non potevano essere inficiati da dei degli sciovinisti americani trampiani di allora che no e lì fu una boh avevo 106 televisioni di tutto il mondo è stata una roba puro culo la fortuna è fondamentale io ho sempre avuto culo nella vita sai che adesso in certe conferenze dedico mezz'ora a far vedere sono un grande appassionato di fotografia a far vedere una foto di Elio Tervit la conoscerai molto famosissima è un'immagine che lui ha fatto nel 1955 uno scatto per pubblicizzare la Côte de Provence e la Côte d'Azur la Provence e la Côte d'Azur che c'è questo nonno in bicicletta il ragazzino seduto dietro due baguette messi in orizzontale i platani il bambino che si gira una foto pazzesca e rompevano molto le palle a Elio Tervit perché gli dicevano gli altri lo invidiavano che culo hai sempre un culo combinazione bambino si è girato combinazione di trovato perché diceva che le sue foto erano prograte la fortuna e un giorno si ha rotto le palle e ha spiegato questa foto e ha detto adesso mi avete rotto adesso mi spiego guardatela bene ho chiuso ho fermato il traffico a nord e a sud ho preso sto signore anziano ho detto monta in bicicletta tu fai il nonno gli ho messo il bread bus così il ragazzino peta ti metto il ragazzino che fa l'ipotino peta ti metto due baguette in orizzontale perché devono fare pandan con la geometria verticale dei platani e poi gli dice il ragazzino tu adesso guardi il nonno nella schiena mentre lui parte però guarda anche per terra e quando vedi sta pietra e mette una pietra allora non c'era photoshop non ho potuto cancellarla se guardi la foto vedi la pietra quando vedi la pietra ti giri perché sei perfettamente dicendo io scatto e tu diventi protagonista il culo va anche cercato e come fai a cercarlo? ci provi sei volte sbagli quattro volte c'è zecchi quelle quattro volte hai culo di quelle quattro una è New York e tra l'altro non ti è mai venuto non sei così quindi è una domanda che poi è anche inutile a questo punto però fatta New York dato tutto bene oltre ogni immaginazione la seconda perché hai già fatto un euro che comunque è stato incredibile ragazzi grazie io ho finito cioè io quello che devo fare ho dimostrato ampiamente a me stesso a tutti che comunque quello che potevo fare l'ho fatto ho creato una cosa basta invece siamo qua ancora a fare le conferenze a fare le cose a fare altri progetti a fare GIT perché? no no lo faccio io ogni dieci anni vendo le aziende passo d'altro passo d'altro perché tu dici su Wikipedia c'è scritto imprenditore ma basta cosa vuol dire ma lo so la domanda a base è quello di fai più niente ma vuoi un'altra cosa perché tu lavori tanto cioè tu giri tanto sei sempre in giro stamattina ero a Milano oggi sei venuto qua ringraziamo non sia bene per quale motivo quindi ti ringrazio ancora e poi dopo vai a GTI a fare una tua cosa poi stasera torni vai su mi hai detto di nuovo perché devi andare a dormire a dormire perché domani a raccontare come l'ha perso non ti piacciono le ricorrenze quindi non diremo che hai fatto da poco un compleanno però ho fatto cifra tonda 70 anni si può dire mi sembra incredibile applauso l'applauso sui 70 l'applauso però l'applauso perché ci sono arrivato anche lì ci va culo perché la salute hai capito quella non la governi perché continui perché continui a girare perché continui a fare le cose non gira tanto vivo sono anche pigro nessuno lo sa che sono pigro tu sei pigro ma certo per venire qua mi sono in queste giornate sembra così convosce non ho preso un frecciarosso ho preso un intercity che va piano così ci ho messo due ore perché dovevo finire di leggere Giulio Cesare di Shakespeare ed ero nel momento nel momento in cui hai capito nel momento in cui Marco Antonio va a parlare dopo che ha parlato brutto e se lo incura con una roba bellissima con un discorso fantastico eccetera quindi no no mi prendo i miei tempi no 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 ma semplicemente però io cambio hai ragione te sono d'accordo con te a un certo punto bisogna dire basta non ho detto basta dopo New York ma l'ho detto dopo pochi anni insomma avevo appena aperto avevo aperto nel 2007 quello era nel 2010 in genere ai 10-12 anni le aziende adoro vendere le aziende e partire a fare altro però in Italia non ce l'ho fatta a venderla tutta ho tenuto il 22 è rimasto un po' un po' tanto 22 sono ancora forse il singolo maggiore azionista nomino il presidente che è mio figlio e devo dire che questi nuovi bravissimi a cui sono contentissimo di aver venduto la maggioranza mi chiedono sempre sono molto gentili e quindi si confrontano col founder perché quando fai una roba che è andata così bene resta tua no? se io ti chiedo di chi è la gioconda tu mi dici di Francesco I o la re di Francia che l'ha comprata da Leonardo o di Leonardo e rimane tua quando riesci a fare una roba così c'è qualcuno che ti ha fatto perdere tempo c'è qualcuno che ti ha fatto perdere tempo ma sì succede spesso ma fa parte dei casi cerco di perdere il meno possibile ma ne ho avuti poi più le inculate che mi sono preso perché siccome secondo me il sentimento dei sentimenti quando parlavo di radici è la fiducia se tu vuoi combinare qualcosa nella vita devi dare fiducia agli altri sei obbligato e non è che puoi dire a te la mia regola fiducia a tutti e ogni tanto ti becchi delle inculate è normale ma non devi tanto buttarti giù sì io mi butto giù ogni volta ma comunque devi riprendere poi fa parte di me tu parlavi della mia biografia come si titola Never Quiet Never Quiet e c'è la mia scimmietta la vedi no? sì 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 che c'è anche nel titolo e ce l'ho la scimmietta ma tutti noi l'abbiamo il tema è riconoscerla tutti noi abbiamo la scimmietta tu ce l'hai io la vedo e devi riconoscerla visticciarci un po' e poi cercare di trovare una quadra con la scimmietta se no è un casino ma è bellissimo avere una scimmietta non sei mai solo ah no su quello non sei mai solo ma senti ma visto che l'Italia comunque è stata una di quelle cose internazionali dall'inizio no? a parte che probabilmente è uno dei nomi più fortunati più belli ma questo è già stato detto ampiamente Bologna l'Italia è piccola l'Italia allora se noi dovessimo così ti sfrutto visto che sei qua uno dice stiamo iniziando a fare un podcast per dire come questo a un certo punto parliamo con l'Italia dobbiamo ancora noi siamo ancora indietro dobbiamo crescere tutto come si fa? si fa in inglese? come si pensa a parlare con il resto del mondo? si fa tutto in inglese? basta se c'è un'altra cosa? ogni giorno che vuoi diventare veramente internazionale mondiale devi parlare in inglese col sentimento italiano però devi sempre avere la tua identità ma tu dici che si può parlare fuori senza dover parlare del fatto che siamo italiani o vogliono sapere quello alla fine? no no loro vogliono sapere vogliono i nomi italiani ci adorano noi non ci rendiamo conto noi italiani di quanto siamo non solo più simpatici una volta eravamo Alberto Sordi ma di quanto siamo stimati oggi nel mondo noi siamo proprio stimati nelle multinazionali del mondo c'è la gara a cercare direttore marketing direttori creativi italiani come cercano gli indiani sull'operation cercano gli italiani sul marketing e siamo molto stimati e ce lo siamo meritati perché se c'è proprio una roba che funziona molto bene nell'Italia diciamo gli cignetti da dire sono lavoratori e imprese sull'estero cioè noi l'anno scorso abbiamo fatto 626 miliardi di esportazioni abbiamo battuto la Francia c'è una roba che era inimmaginabile qualche anno fa abbiamo imprenditori formidabili i più bravi che io conosca sono nel mondo i lavoratori in 17 nazioni del mondo ti credo che i più bravi sono gli italiani i lavoratori italiani sono i lavoratori della Madonna lavorano al doppio degli americani dei francesi cioè la parte dell'impresa che per me vuol dire imprenditori e lavoratori perché siamo sulla stessa barca è la migliore del mondo e quello è un battaggio enorme siamo anche un altro punto di forza della nostra Italia è la politica locale 8.000 sindaci che mediamente sono molto bravi amministratori locali i punti di debolezza secondo me sono la politica romana che è molto grave non è mai stata in una condizione così brutta come ultimamente ma non parlo dell'ultimo governo parlo dell'ultimo periodo fanno un tubo sostanzialmente secondo me fanno solo propaganda poi essendo proprietari del media ancora più ascoltato che sono 27 milioni di persone che ogni giorno guardano la televisione ogni sera essendo i proprietari delle reti nazionali loro te la muovono tu guardi i TG TG sono terribili orribili rispetto a e quindi abbiamo questo problema della politica nazionale centrale dei media forse abbiamo anche un problema di magistratura e questo è il punto di debolezza del nostro paese però abbiamo questo punto di diamante dell'impresa italiana qui a due passi quindi voi fate tutte le macchine di precisione della terra cioè non si riesce a immaginare questo infuso che mi è stato portato che è stato fatto in Inghilterra è stato sicuramente imbustato con una macchina costruita qua che è molto interessante la packaging valley è certo è pazzesco però tutta questa frammentarietà può anche essere poi un problema perché non ci sono grandi aziende che assorbono ma dobbiamo tutti ognuno fare la sua così come le proloco c'è chi dice che sono un problema mentre invece in Francia è tutto centralizzato e quindi riescono a fare più consorzio a fare più gruppo qua invece ognuno fa il suo e poi dice no il mio formaggio che faccio io è migliore di quello ed è un po' un casino è il nostro punto di forza è anche un problema però tanto non possiamo fare diversamente per via di quella biodiversità che dicevo che abbiamo quindi noi abbiamo 5 milioni di imprese teniamoci e valorizziamole non siamo capaci di fare multinazionali non dice tanto inutile che è in pochi casi la ferrero che non perdiamo tempo a fare una roba su cui non siamo vocati ogni paese deve seguire le proprie vocazioni certo che però hai ragioni tu ma messo in rete pensa a questa roba dell'autonomia differenziata adesso almeno come è stata scritta perché potrebbe anche se è una buona idea creare un po' di autonomia regionali su certi punti ma non su 23 che sono tutti per cui capito vado a fare la fiera a Las Vegas ci sarà il pandigio della Basilicata poi quello del Molise poi quello di qua poi quello di là e hai ragione tu i francesi vanno vanno insieme come nazionale ma lì è un altro popolo per ora è un popolo di uno standing elevatissimo rispetto a noi ma quindi mi pare di capire che alla fine non è tanto mi piace qualunque cosa dell'Italia andiamo avanti grande ottimismo ma è visto che abbiamo questa roba qua cerchiamo di valorizzare questa roba qua io mi riferisco quando faccio tutta la scena che culo mi riferisco alle potenzialità abbiamo potenzialità pazzesche tu pensi domani vado in Sicilia sto perdendo le cose che da dirti negative su di te non so no no stavo pensando di quello che vuoi no sto scherzando no domani vado proprio in Sicilia a spiegare loro che la potenzialità di quella regione lì è incredibile cioè la Sicilia se ti dico che è l'1,9% delle nostre esportazioni di eccellenza agroalimentare nel mondo dell'Italia dici ma come solo l'1,9% con quello che ha la Sicilia eppure è l'1,9% che ha pochissimi prodotti a denominazione sugli 815 noi abbiamo problemi del sud perché metà l'Italia funziona da Dio il problema del sud è un problema enorme e molti non capiscono che senza il sud l'Italia non è l'Italia qui dobbiamo riparare questa cosa e noi dobbiamo non è l'Italia nel senso di produzione nel senso anche di immagine non è più niente che poi tra l'altro è una follia è probabilmente molto collegato al fatto che la maggior parte dei migranti arrivano dal sud e quindi l'idea che c'è dell'Italia all'estero è quella del sud per quel motivo non solo i migranti del sud che sono andati all'estero hanno fatto tutta una carriera da madonna tu vai a Toronto il capo della finanza è un calabrese il più grande costruttore è un siciliano il più grande ristoratore ha 26 ristoranti bravissimo si chiama Terroni di cognome che è tutto quello che dobbiamo fare noi del nord è capire tu per esempio sei figlio di due pugliesi giusto? che sono arrivati qua 50 anni fa bravo il miracolo economico il più bel momento storico del nostro paese forse più da rinascimento più di Traiano Adriano quando mi chiedono dei momenti storici bellissimi dove l'interesse di distinto da matti io cito il miracolo economico dopo guerra che è proprio classico avevamo toccato il fondo con Mussolini avevamo toccato il fondo pum ci erano imbalzati ma ragazzi noi in 12 anni era tutto distrutto non c'era niente che funzionava non c'era un ospedale che funzionava una fabbrica che funzionasse una scuola aperta perché ci hanno fatto un culo così eravamo dalla parte sbagliata dopo 12 anni eravamo quarti al mondo quello che è stato fatto il paese che funzionava meglio il mondo tutto le autostrade le abbiamo fatte a metà costo dei francesi al doppio della velocità gli ospedali li abbiamo tirati su che era una meraviglia si è arrivati a avere la sanità migliore al mondo cioè una roba incredibile perché se ci mettiamo ma che sentimenti c'erano? la fiducia io andavo a comprare il latte la lattia nella bottiglia di vetro che riusavamo la lattia non mi chiediamo che soldi apriamo un librettino nero scriveva farinetti 100 lire e dall'altra parte mia nonna si sarebbe vergognata come una ladra non andare ogni fine mese a pagare proprio fiducia e sentimento di vergogna sono due sentimenti che hanno segnato dopo guerra allora noi dobbiamo tornare a quella roba lì e il miracolo economico quel momento strepitoso noi l'abbiamo fatto grazie meridionali è un fenomeno del nord grazie meridionali un sacco di meridionali sono butti su sono fatti un culo così hanno accettato i lavori più umili noi senza i meridionali non combinavamo niente e oggi dovremmo sdebitarci partire e andare a investire al sud andare a lavorare noi al sud dove c'è delle potenzialità incredibili io ho due aziende in Sicilia però uno dei miei fallimenti è stato I3 di Bari che l'ho aperto ho dovuto chiudere perché non c'è niente da fare non ci facevano quel livello di prezzi miei non lo potevano accettare non c'era il mercato e adesso cosa fa Oscar Farinetti adesso? si è ancora dentro Italy chiaramente grazie a Italia è il nuovo nel mio tempo nel mio tempo dedico adesso non ti dico percettare non lo so più o meno pari tempo i due maggiori sono a leggere e scrivere poi due fondazioni che seguo molto una università in cui io sono presidente dell'associazione amici dell'università di Pollenzo penso che l'università di Slow Food la Unix di Scienze Gastronomiche ci dedico un po' di tempo due fondazioni poi le aziende di vino che sono diventate le aziende principali di famiglia noi abbiamo 11 cantine in Italia facciamo più di 100 milioni di fatturato nel vino tutto vino biologico fatto con tutti i miei pallini addirittura i trattori biometano sono tremendi vendiamo in 100 e passa paesi del mondo e mio figlio segue quello e io lo aiuto un po' dei tre quello lo aiuto di più anche se quello che ne ha nemmeno bisogno abbiamo Green Pea il primo department store al mondo dedicato a sostenibilità adesso mi sto occupando un po' di più di questo perché vorrei fare in maniera questo vuol dire Gran Turd Italia infatti c'è questo perché siamo vicini in realtà è Gran Turd Italia vorrei che funzionasse almeno non molliamo finché non funzionerà e e quindi ne ho da fare da matti ma perché dici che su Wikipedia lo scrittore è terzo come vorresti che diventasse primo cioè tu dici anche ho letto in un'intervista penso al Corriere che forse uno dei tuoi così rimpianti è che di non aver studiato abbastanza da giovane di non aver fatto non aver sì è un grande rimpianto perché io fotoccio classico studiì chiavo ma meno di tanti miei amici e avrei dovuto leggere di più già leggere già di più Platone allora e ho cominciato a leggere bene a 50 anni e quando mi chiedono a tutti i problemi di cui parlavamo prima dell'Italia io avrei potuto dare sempre una risposta la stessa abbiamo dei problemi perché? perché noi che siamo terzi per PIL in Europa poi siamo ventitresimi per tasso di lettura e ricordo che i paesi d'Europa sono 27 non leggiamo un tubo e un popolo che non legge non ce la può fare tecnicamente perché cosa serve leggere? a farci venire dei dubbi ti faccio un esempio anche in Francia ci sono i social e c'è il cinismo gli sputanamenti il denigrare ma in Francia non c'è una trasmissione come il report che sputanano le persone in Francia non si sputanano così sui social perché leggono sono molto più colti man mano che leggi ti vengono dei dubbi Bertrand Russell ha sempre detto che è intelligente che ha dei dubbi è stupido che è pieno di certezze e vedendoti dei dubbi critichi meno aiuti la Francia è primo per tasso di lettura in Europa e li vedi le cose poi hanno anche loro delle difficoltà perché ce l'hanno adesso è un momento che a livello di imprese siamo più forti noi secondo me come imprese siamo i più bravi in Europa e tra i più bravi al mondo secondo me anche tra i più bravi abbiamo tutti il problema fondamentale è la cultura siamo un paese che manca di cultura siamo un paese ignoranti e quindi dobbiamo studiare quindi studiare quindi bisogna trovare il sistema infatti una delle mie mosse è from duty to duty ti è di smettere di presentare questo problema come dovere ma presentarlo come bellezza far diventare figo studiare informarsi pensare prima di criticare farlo diventare figo perché noi quando una roba diventa figa guarda io vendevo avevo la Unieuro allora nel 92 eravamo gli ultimi in Europa per cellulari non li comprovavamo perché poi noi siamo neofobi quando c'è una roba nuova siamo stati gli ultimi ad abbandonare il cambio manuale sulle auto ci piaceva fare quel gesto inutile ci piace ancora mi sa sì ma perché siamo così neofobi ma manchiamo di curiosità ebbene vendevo cellulare eravamo gli ultimi in Europa poi a un certo punto di colpo non è diventato figo è diventato utile è diventato non utile è diventato figo avere cellulare abbiamo capito che chi allora noi devo parlare della mia generazione voi non lo sapete ma vi informo andavamo in pizzeria e mettevamo vicino al piatto lì il frontalino dell'autoradio si toglieva il frontalino e si metteva lì a un certo punto i più fighi invece il frontalino hanno messo il cellulare e lì ci dividevamo proprio in due categorie il figo che aveva il cellulare lo sfigato con il frontalino dell'autoradio tutti ha comprato il cellulare primi in Europa primi al mondo è diventato è diventato una moda e io per quello che dico voglio risolvere i problemi facciamo diventare figo a comportarsi meno senti ma in questa retorica qua in questa retorica della passione per il futuro perché possiamo chiamarla così non lo dico per chi ci ascolta lui essendo filosofo parla di retorica in termini positivi perché molti immaginano molti immaginano che retorica no perché effettivamente la retorica ha avuto una bruttissima una bruttissima reputazione nel novecento per Benedetto Croce che ringraziamo ma al di là di questo però in senso in senso ovviamente neutro o positivo però uno che visto che parlavi prima della politica romana così facciamo un reel lo montiamo su questo Renzi ti piace adesso? ti piace ancora? perché eravate? sì mi piace a me quando uno è un amico per me è molto amico io gli voglio bene qui ti piace sempre anche se magari delle idee diverse spesso si cambia poi sì si cambia secondo me lui ha fatto alcuni errori molto gravi e deve pentirse ne deve cambiare poi è fiorentino sei fiorentino per una battuta sai c'è questo libro prima ti parlavo di Goethe che ho scritto Viaggio in Italia poi è stato riscritto Viaggio in Italia da come cacchio si chiama sto giornalista negli anni 50 bravissimo adesso mi viene in mente uno dei più grandi ha riscritto Viaggio in Italia sono andato a leggermelo e però lui narra anche i caratteri allora quando arriva ai fiorentini li descrive li descrive crudelmente polemici e sai cosa dice di voi bolognesi stupidamente polemici infatti io sono pugliese non vale mi dipendo così i fiorentini crudelmente i due popoli più polemici che ha trovato sono i bolognesi e i fiorentini ma con una parte all'altra dell'openino e lui è un po' sì hanno questa cosa però secondo me per esempio lui ha voluto fare questa riforma costituzionale che aveva messo aveva preparato era straordinaria pensa adesso doveva parlare dell'autonomia lui aveva preso il titolo quinto quindi di riunire un sacco di robe camera unica era visionaria era molto bella però poi quando si è ritrovato sai come quando Napoleone che era immensamente più figo di Wellington che più in gamba ha perso perché lui era solo l'altro era tutto il mondo quando ti trovi contro da Casa Pound a Zagrebeschi è difficile e ce l'hai tutti contro perdi per quanto sia e lui lì ha preso la scopola bestiale è stato un errore degli italiani secondo me quello era un belissimo poi il suo caratterino ed è incredibile dal 41% oggi pare stia sul cazzo a tutti no? ci pare che sia proprio cioè è difficile che trovi uno che ti dica beh però lui fece proprio il passaggio è diventato di moda dire come dici Renzi non sanno neanche perché poi dici perché e beh non lo sanno sì mi spiace per lui ci sto male per lui ma lui che ha un carattere diverso dal mio ci sta molto meno male ah dici che lui è uno di quelli che ci sta meno io li suiciderei sì sì dici che lui è uno di quelli che sta meno sto sul cazzo tanti ma lui batte ogni record allora la prossima domanda non puoi rispondere Tonino Guerra va bene tra tutte le persone che hai incontrato che ti piacerebbe incontrare eccetera una persona con cui davvero ti è piaciuto tanto parlare avere quell'incontro lì o volendo che ti piacerebbe posso dire mio papà sì dovevo togliere anche tu papà mi sono dimenticato va bene togliamo Carlin Petrini togliamo Carlin Petrini no no metti chi vuoi togliamo Carlin Petrini che mi è piaciuto parlare con cui mi è piaciuto parlare avevo un mio vicino di casa è morto purtroppo contadino e Piero e io gli dava un cugno non mi ricordo più e l'avevo nominato direttore marketing della mia azienda e l'abbia mattino alle 7 ci trovavamo facciamo due parole ma lui contadino proprio l'avviamento aveva fatto e ogni tanto mi dava delle perle di saggezza pazzesche poi ce n'è una marea di persone te adesso mi piace da matti parlare con te io potrei stare due ore e mezza adesso a parlare con te perché capisco che capisco che ne sai più di me io cerco sempre nelle persone i talenti superiore ai miei è l'unica maniera per far nella vita pensare che esistono persone che hanno più talento di te magari un talento specifico e copiare da queste mossa numero 8 mossa numero 8 copiare e quindi mi diverto da matti con le persone che hanno più talento di me che normalmente sono tante ne trovo parecchie te ti considero tra questi grazie sono molto in imbarazzo quando ricevo i complimenti no a parte il tema della gentilezza che è vitale a me piacciono molto le persone gentili perché bisogna essere più gentili e tu sei gentile che comunque e quella roba lì secondo me te l'hanno segnato abbastanza i tuoi genitori perché impari ad essere gentile tra gli 8 e i 12 anni perché tra gli 8 e i 12 anni impari a ragionare con la testa e col cuore e quindi essere gentile il cuore è una gentilezza c'è mia mamma che sta ascoltando quindi stai facendo un grande regalo in questo momento secondo me la famiglia incide io tra Pasquale e Cartesio sono lì a metà ma sono sempre stato a metà sono un doroteo alla fine poi scopro di essere un democristiano però quindi in te trovo del talento si capisce e quindi mi piace questa cosa tantissima è difficile chiaro che se tu non mi avessi impedito di dire Torino Guerra mi ha cambiato la vita perché lui mi ha insegnato una cosa fondamentale che io non conoscevo cioè di mettere un po' di poesia vicino a quello che facevo io mi ritenevo mi piaceva la poesia ma mi ritenevo assolutamente incapace e lui mi ha spiegato che poesia non è soltanto esprimere i sentimenti ma anche saperli raccogliere cioè mettere un po' di poesia vicino a quello che facciamo ma e lì mi ha aperto un mondo mi ha aperto un mondo pazzesco e mi diceva proprio sempre così perfino tu malgrado un mestiere di merda che fai puoi essere capace di mettere un po' di poesia vicino alle tue azioni sì lui è quello che mi ha cambiato la vita ma lui me l'ha proprio cambiata e mio padre me l'ha cambiata e Carlin Petrini me l'ha cambiata quei tre lì sono e mi ci metto in mezzo no non ancora chi lo sa magari tra un po' no a proposito invece di mestiere citato di una guerra poi andiamo verso la chiusura secondo te adesso che fai entrambe le cose hai fatto avresti fatto lo scrittore avresti provato a fare lo scrittore anche senza aver fatto impresa anche senza fare impresa ma certo mi sarebbe piaciuto da Marti ma io sempre il mestiere degli altri sono quelli che mi piacciono mi sarebbe piaciuto da Marti fare lo scrittore come Baricco ma un Baricco è un altro cazzo dovevo dirlo Baricco è un altro infatti non è però me l'avresti escluso e quindi come Baricco che ha scritto su Bezzella era vent'anni insomma sì mi sarebbe piaciuto partire molto prima ma alla fine non ce la farò mai io siccome sono olistico mi piace fare di tutto infatti noto i personaggi che piace a me Leonardo Giulio perché sono olisti fanno un po' di tutto Giulio Cesare è stato anche il più grande scrittore della sua epoca quando leggevo il libro il tuo libro in cui ti sei messo a dialogare con Leonardo da Vinci poi se sei arrivato qua stavamo parlando gli ho detto voglio riscrivere Shakespeare è venuta in mente la battuta di Woody Allen quando gli dicono beh magari stai esagerando dici ma se mi devo prendere un modello però non mi prendo il portinaio a quel punto provo ad andare giustamente ma non è che lo voglio scrivere per farlo meglio ma ci mancherebbe a parte che è già scritto bene è già scritto leggibilissimo però lo voglio proprio scrivere nel volgare del terzo millennio hai capito? come faceva Boccaccio che comunque è vasto programma però bello per citare un altro allora io adesso visto che tu mi hai fatto i complimenti a questo punto posso degenerare perché ormai me li sono presi ho fatto questo giochino sui cliché dell'Italia e facciamo un piccolo torneo cioè out out quindi ti do due opzioni tu dici quale preferisci quello va avanti altre due opzioni va avanti poi vediamo chi vince no? è un out out che abbiamo preso da un out out sulla banalità della retorica fatto con Barte Zaghi l'enigmista è stato bello allora adesso l'abbiamo declinato che è qua di Bologna? eh no Milano Milano però ha studiato tanto a Bologna con Umberto Eco allora abbiamo tutto da noi ci siamo divertiti quindi adesso lo facciamo sul cibo quindi ti do due opzioni tu scegli e poi vediamo chi va avanti ok l'odore del soffritto che fa tanto casa o il profumo del caffè della moca al mattino che fa tanto casa beh la casa c'ergo il caffè perché il soffritto lo odio una roba mi manda fuori di testa il fritto infatti a Roma faccio una fatica io sono la velocina romana la lasagna come la faceva mia nonna o la parmigiana come la faceva mia nonna sono tutte e due la belle robe della nonna dai la lasagna dai scegli quella che ti piace di più allora un buon bicchiere di vino rosso che fa sangue o un bicchiere di vino bianco fresco mentre cucina la pasta con le vongle con lo straccio sulla spalla la prima vino rosso che fa sangue ma dovevi chiedermi quella che ti dispiace di meno non quella che mi piace eh certo beh se no che gioco è spero che non ti piacciono queste cose se no perdiamo tutto ultime due una buona pizza napoletana con i vecchi amici di un tempo oppure un gelato passeggiando nelle vie del centro tra i monumenti che siamo gli unici ad averli pensa che in America per dire si radunano nei parcheggi la prima la seconda è troppo lunga sembra un film della verdure quindi rimangono un buon bicchiere di vino rosso o la lasagna come faccia la nonna chi vince tra queste due il vino rosso il vino rosso mi sa che ho già capito chi va a vincere qua però il profumo del caffè della moca o una buona pizza napoletana il vino rosso però questi due deve vincerne uno il profumo del caffè o la pizza napoletana tra questi sei la semifinale siamo alla semifinale quindi devo cercare tra il caffè e la pizza un profumo del caffè e la pizza caffè e vino rosso vino rosso e quindi tu che vino rosso non voglio sapere la marca voglio sapere il vitigno bevi quando vuoi stare bene il tuo comfort wine come dicono i ragazzini premesso che io ho deciso di non avere abitudini e di eliminare il gusto cioè dire il mio gusto è io cambio ogni volta a questo punto di possibilità sono due cose che mi piacciono tantissimo e lo posso dire beh l'abitudine e il gusto non hanno nessun senso bellissimo fammi dire una cosa quindi cambio ogni volta perché noi abbiamo proprio il problema dell'abitudine spiego sempre attivamente le mie conferenze che l'ordinazione più ripetuta nei ristoranti italiani è il solito come cazzo farli nel paese più biodiverso e l'abbiamo fatto diventare figo ci siamo fighi il solito soprattutto al sud al sud c'è questo cosa dirò domani i siciliani perché gli dirò avete un proverbio di merda quello più di merda di tutti i tempi moviti fermo ma come cazzo fai a muoverti fermo cioè come si fa e dico ai giovani strappate la prima operazione che deve fare la generazione Z prendere i proverbi dei nostri vecchi e strappare a parte quelli saggi che questi qua allora la domanda era sul vino è chiaro che io non per ma in assoluto allora il vino buoni tutti io bevo bianco bevo bolle bevo rosso normalmente quando entra in scena rosso asfalta tutti per motivi c'è anche dei motivi tecnico chimici che poi nasce rosso perché la maggioranza dei grapes al mondo sono rosse poi il rosso sai nei rossi proprio di vitigni ti dicono i grandi gourmet del vino i grandi enologi i grandi gruoni dicono che nei rossi c'è due vitigni soprattutto nel mondo che sono il nebbiolo che diventa barolo e il pino nero in Borgogna che diventa pino noir diventa Borgogna poi c'è il vuoto poi c'è tutti gli altri in Italia c'è San Giovese buonissimo diventa Brunello eccetera adesso sull'Etna si fa un grandissimo nerello mascherese mentre nei bianchi si dice ce n'è uno solo i Riesling poi c'è il vuoto e poi c'è gli altri e quindi devo scegliere tra Brunello e tra nebbiolo che diventa barolo barbaresco o pino nero di Borgogna però tu puoi anche dire scelgo perché ci sono nato no scelgo siccome non voglio fare un giovinista pino nero io ho avuto tutto quello che potevo desiderare ti vedo solo l'ultima cosa che è l'unico vero motivo per cui ti ho invitato se mi puoi salutare il mio gatto a casa si chiama si chiama Prucis dice ciao Prucis è un maschio è un maschio voglio dirgli che la più grande innovazione che può fare lui nella sua tradizione sai che la tradizione non è altro che un'innovazione ben riuscita smetterla di dar la caccia ai topi quello lo può fare ciao Prucis ciao ciao Prucis grazie mille 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 grazie mille